Se fate il tifo per me, hashtag teampepeos Se fate il tifo per Graziana, hashtag teamgrita Se volete vedere Graziana vs cibo con i McNuggets Arrivate a 15.000 like a questo video e ve lo porterò Quanto sono contento ragazzi Quanto sono contento oggi Si mangia e si guadagna E io non mangio e spenderò soldi Il giorno più brutto della mia vita Il giorno più brutto della mia vita Il giorno più brutto della mia vita Sono contentissimo, finalmente possiamo sbaccare in allegria e in compagnina Ma che cosa? Io e voi, Marziana no Perché Graziana andrà a pagarmi ogni panino da 1 euro Che andrò a mangiare Tra voi faremo vedere il listino prezzi Comunque, guardami di quanto mi sparano di questo nuovo video Ciao Ciao Chiesti hamburger? Ciao, grazie Grazie, ciao Beh, chi era? Aia, vecchie conoscenze? Chi era? Ragazzi, chi di voi se la ricorda? Dai che c'è arrivato, lo so, lo so che c'è arrivato Anzi, se qualcuno di voi non la conosce Vi lascio il link sotto in descrizione Per forza, perché lei è la mitica L'unica e sola Scrivetemelo nei commenti Qua dentro ragazzi Ci sono almeno 1000 euro che mi darà Graziana Sicuramente Ah, l'odore dei soldi Quanto è buono Trollini, riprendiamo con i saluti Non per cattivare ma perché ci dimentichiamo ad ogni video Quindi nel video di oggi salutiamo Vito Andrea in Gravallo Bella Sabrina Ginetti Ciao 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 ragazzi Voi potete essere salutati Mi raccomando Ti vedete al capire Nel video c'è del like Commentate qua sotto E seguiteci tuissimi Qui abbiamo tantissimi panini Tantissimi hamburghe E in base a quanti ne mangerò Abbiamo il listino prezzi Ovvero Un panino saranno 3 euro Perché ovviamente è facilissimo Due panini Mi daranno una bella pancolota di 10 euro Dopodiché Siccome Non è che io ho una fame sfropositata Andremo di 50 e 50 Quindi io cercherò di mangiare Più panini possibili Perché voglio guadagnarci Ovviamente questi poi li ho pagati io Quindi almeno I primi 50 euro li voglio guadagnare Dai Graziana Inizia a sborsare i soldi Che è un fame Non li ho portati Come no? Eh mi dispiace Muoviti Mi dispiace Muoviti A parte che questo è un video Con l'amore della mia vita Cioè il McDonald Io lo sape Infatti io non l'ho detto neanche niente E non potrò Stare col mio amore Ciao Ti odio Oh Mostraceli Graziana Tieni Questi sono per il primo panino no? Per tutti i panini No esci l'altra mano Esci l'altra mano Tieni Tutti No questi sono per il secondo panino Tieni Sì Ragazzi ovviamente siccome poi me lo dite ad ogni challenge Sono veri ragazzi Sono veri Tieni Oh ragazzi sono ricco Sono ricco Sì Non è che se te li mangi Sì Me li mangerò tutti Ma il costo di stare vale per tre giorni Me li mangerò tutti Abbiamo anche altri panini nelle booster Però già non so se riuscirò a mangiarmi questi Non vi preoccupate Non vanno sprecati Ma li porteremo a casa E li mangeremo tranquilli Il problema È che sono diventati chiacciati Non è una scusa Non è una scusa Ok E comunque E comunque Ci tengo a precisare Che prima devi finire il panino Poi ti do i soldi Ok Ma sono tutti qui Sì ma non fa niente Ormai sono miei Assolutamente no Sti panni diventano schifosi Perché? Eh non mi interessa Mi dispiace Il prossimo sarà questo Qual è? È lo rosso Non sei sazio Devo dire la verità Un po' sì Perché sei già sazio con metà hamburger? Perché? Perché la mia dolce ragazza Ha voluto fare questo video Dopo che io ho già cenato Non me l'ha detto prima Me l'ha detto dopo Sono una dolce ragazza Capito perché? Ho mangiato un bel panino crocchiebam Capito perché? Primo panino Liscio come l'olio Tac Tac si guadagna Già è un profitto Eh certo Questi sono me Già da qua La prossima volta Tre panini del Mcdonald Va Ah che poi non ci ho guadagnato niente Perché ho comprato i panini Quindi per ora non ci ho guadagnato niente Secondo panino Non lo so mi sembri uno che va al mare E si spiaggia Io devo fare tutti i video così Ciao Chi me lo fa? Ma mangio Questo guadagno Mangio 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 Io mangio E sono felice Anche se poi vomito Mangio E sono 13 Il nostro Pecos ha guadagnato un bel Ma sai qual è la cosa divertente Che non puoi bere in questa challenge Una regola che mi sono appena inventata adesso Beh mi riempi di me Ok allora puoi bere No ma non bevo Ma non bevo Ovviamente oltre a questi panini ce ne sono altri Andiamo con il terzo Allora il terzo panino sta andando Ok man Ok man Go go Mi stai sfidando? È una sfida questa? Sei un maiale Sei un maiale comunque Non ho capito? Ho capito 73 euro Sono qui Ragazzi io qui vedo un uomo rassegnato Rassegnato che non riesce più a mangiare Io diventerò un hamburger da grande Questo è il mio salto Li vuoi? Oh no Sì? Oh no 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 Contemporaneamente No ragazzi comunque è un regalo di Natale anticipato Non che io sia Scema Da perdere tutti Da perdere tutti Certo Da perdere tutti questi soldi Ragazzi l'inituzione è più difficile del previsto Sono a 4 pallini mangiati E sono leggermente pieni E tutti gli altri nella posta non li conti? Oh Non è che ti voglio far andare in pancarotta Ah giusto Per ora abbiamo questi Non so fin quando Ma voi fate il tifo per me per favore Fate il tifo per me al massimo No raga sotto nei commenti Se fate il tifo per me Hashtag team pepios Se fate il tifo per Graziana Hashtag team greta Vai Vai Ok hashtag team greta Comunque penso di aver trovato una soluzione Un doppio hamburger No aspetta c'è qualcosa che non va Momento 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 Allora Manca un hamburger Eh certo Manca un hamburger E dove? Peti ho visto No Questa è la soluzione Aggiungi un'altra fetta di pan Non vale Non vale Ok questa non vale 50 euro li posso riprendere No Mi dispiace Hai addentrato il panino ormai Guarda 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 È buona Fatto Ah c'è una cosa positiva e una cosa negativa La cosa positiva E che almeno con questi me ne restano 4 Per ora Spero Ma non credo di farcela oltre questi Però Questi sono pesanti da rimanere insieme Quindi usiamo l'altra tattica Quando la vita non ti sorride Dividila Cheat papios Sono arrivato con molta difficoltà Alla fine Di questi due panini Nella stanza non si può respirare Vedetevi di me perché si sente solo McDonald Però È arrivato il momento Ce la posso fare Vai Inresisto il McDonald È troppo buono Io il sacrificio l'ho fatto Non vale Ecco la tua Comunque ragazzi Mi dovete consigliare Che cosa comprarmi Con tutti questi soldi Che sto guadagnando Così in modo easy E non ditemi cosa è sconcia Per favore Le robe belle Un regalo a Graziano Datemi un buon consiglio Per favore Un regalo a Graziano Ragazzi Io ho preso una leggera pausa Perché Graziano Non mi ha dato limiti di tempo Quindi Il problema È che Non ce la posso fare Anche volendo Perché Non ci arriva È troppo grande Posso pressarli E io Non so se ce la faccio Ci posso provare Ma sto veramente scoppiando Tutti Addentali tutti insieme E riceverai un bonus Addentali tutti insieme E riceverai un bonus Che bonus Eh Devo scoprire dopo Vabbè Sono troppi Addentali Ma non riesco Addentali Ma tu poveri panini Mi dispiace Dai Basta compressare Se no niente è bonus Bravo Un attimo Ragazzi È imbarazzantissima Questa cosa Il vostro Papius Sa accettare La sconfitta Però Questo panino Qui Entrerà Perché questi tre Sono un macigno Per il mio stomaco Più che mamma Simba Vieni a me Simba Dragon Sharon Chi è Dragon Sharon Con 262 euro Io penso che ci siamo Mosse in grigia a mente Con 262 euro Io penso che Uscirebbe fuori un bel regalo Di natale Che dici Per me ovviamente Ma direi che no Io direi di si 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 Questi qua Li conserviamo Anche perché ne abbiamo altri Che non vi faccio vedere Abbiamo ancora un botto di panini Aggi nella pulsa E il devasto di panini Oggi ho fatto il cameraman Se volete vedere Graziana Versus Cibo Con i McNuggets Quindi facciamo la stessa cosa Però con i McNuggets Perché ovviamente sono più forte Cioè Gli ne avrei mangiato I 75 di hamburger Vedremo Arrivate a congimbiare A like questo video E ve lo porterò Ciao 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 Ciao